salve a tutti e benvenuti in questo nuovo fotografi vlog oggi faccio questo breve e semplice vlog ho notato che vi piace appunto stare in macchina con me a questo punto facciamoci una bella chiacchierata ho notato che sono aumentati veramente molto i commenti al di sotto i miei video sono molto vari di questo sono davvero molto molto felice un'altra cosa di cui sono veramente molto felice è il numero di iscritti infatti siamo passati da circa 32 33 iscritti nel vlog passato ormai saranno passati quasi due mesi ai 45 iscritti attuali 45 nel momento in cui sto proprio facendo questo vlog spero ovviamente che continui a aumentare così sono molto felice che vi piacciono i miei video ovviamente preferireste fare fare con me qualche video nel senso preferireste qualche video in particolare sarei molto felice ovviamente di accontentarvi creando video appunto che mi proponete basta ovviamente scriverlo qua sotto nei commenti come sempre io spero di essere il più celere possibile non solo nel farli ma anche nel rispondervi un'altra cosa di cui sono vera mamma che sole un'altra cosa su cui sono veramente molto indeciso è se creare qualche video riguardante la fotografia analogica infatti fino a mo ci siamo esclusivamente occupati di fotografia digitale ma c'è questa piccola idea che ho in mente su fare qualche breve tutorial o anche un bel corto qualcosa di simpatico che riguarda appunto la fotografia analogica dal dall'inizio quindi dall'idea fino alla stampa della fotografia sono ancora molto indeciso deciderò poi più in là se farlo o no voi intanto scrivetemi se se vi interessa questa cosa questo video blog l'ho fatto molto molto breve per ringraziarvi principalmente per la partecipazione e per l'aumento di persone sul mio canale sta a voi adesso scrivetemi ovviamente nei commenti qua sotto e come sempre mi raccomando commentate condividete lasciate un like se il video vi è piaciuto e non resta che dirci al prossimo video l'ho fatto